Nome, Alessandro Matteo Soprannome Yugi oppure Sovrano Supremo Zayne, come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti in un modo molto particolare Esattamente grazie a mio fratello maggiore Era in chiamata con Zayne E poi sono rimasto un attimo lì a parlare Alcune volte quando mio fratello non sapeva qualche effetto Lo dicevo io perché ero abbastanza bravo a Yugi Poi dopo un po' che loro chiacchieravano Zayne mi ha chiesto il mio numero E da là siamo diventati amici A chi è venuto in mente di creare il canale? Allora l'idea del canale è venuta a lui Anche se si è ispirato a me Quindi io direi che è stato merito suo Non voglio prendermi il merito Siete felici di aver conosciuto l'altro? Sono assolutamente felice Perché Zayne è una di quelle persone incredibili Esattamente io Lui è più grande di me Le persone della mia età Quasi non conoscono Yugi E conoscono a malapena Pokémon Quindi una persona del genere In cui posso parlare tranquillamente Di cose che a me piacciono È veramente incredibile È stato un gran piacere conoscere Matteo Soprattutto per la sua gentilezza E il suo senso dell'umorismo Videogioco preferito? Non ho un videogioco preferito Posso dire Sono tutti belli Quindi Ovviamente ci sono Quei giochi Proprio brutti brutti Ma Non ne ho uno più preferito A me piace tutta la saga Kingdom Hearts Tranne Rechain of Memories Perché il suo combat system Fa assolutamente schifo Gioco di carte preferito? Il mio gioco di carte Ovviamente preferito è Yu-Gi-Oh! Cioè Senza ombra di dubbio Yu-Gi-Oh! Ovviamente Ci gioco da ben dieci anni Che mazzo usate? Io uso un mazzo Allora prima usavo un mazzo Blue Eyes Poi Fedele della Luce E poi Una sottospecie Di Cyber Drago Posso dire Con qualche carte Scambiate Con Alcuni miei compagni Delle elementari Che Grazie a me Hanno Raffilato una passione Verso Yu-Gi-Oh! Quindi Tanta roba Quindi tipo C'erano gli scambi Assolutamente cose Veramente belle E poi Un mio amico Mi ha regalato Lo structure deck Nuovo di Cyber Drago Quindi Adesso Adesso gioco il deck Cyber Drago Io invece Giocando nel mondo Competitivo di Yu-Gi-Oh! Gioco il trepperde Lo structure deck Del Cyber Drago Senza Impermanence E adesso Mi sto montando Cavaliere Fantasma Carta preferita Invece? La mia carta preferita Sono indeciso Perché Sono indeciso Tra Cyber Drago Finale E Drago Bianco Chi-Blue Non lo so decidere Forse Cyber Drago Finale Io da persona Che è cresciuta Con Zex Al direi Utopia Però in realtà La mia carta preferita È la Ash Solo per i meme Con Fieric Che è La bambina Quali sono i vostri programmi Per il futuro? I miei programmi Per il futuro Sono Andare in palestra Quindi Comparmi Continuare gli studi Per bene E Poi Poi basta Io non sono Una persona Che pensa già Cosa diventerò Da grande Io vivo la mia giornata Al massimo E senza timore Cosa ne pensate Nell'altro? Io penso che Zena sia una persona Fantastica È veramente Uno di quei amici Fidati Che tu Puoi dirgli Tranquillamente tutto E loro ti Possono capire Quindi Sono veramente felice Di averlo conosciuto Come ho detto anche prima E Penso che sia Gentile Sì Veramente gentile E E Basta Perché È quella parola Gentile Lo stesso vale per Yugi Carta che odiate E deck che odiate Allora la carta Che odio di più È Ash Proprio una di quelle carte Che odio Odio Mentre il deck Non ne ho uno Che non mi piace Sono tutti Abbastanza interessanti Se avessimo fatto Una settimana fa Questa intervista Avrei detto Mila mistica Ma dato che è bannata Possiamo tranquillamente Dirgli addio Quindi Direi Richiamato alla tomba Anche se Non la vedo più Molto giocare Quindi Direi Ce ne può essere Solo uno Perché io gioco Molti deck Che Hanno Gli stessi tipi Quindi Cioè Sarei Un buon target Di Ce ne può essere Solo uno Mentre Per quanto riguarda I deck So che Non l'ho mai Affrontato Ma Ho visto Usare E dico Per il momento Tier la vence Tier 0 Con le carte Di Shizu Perché Porcaccia La miseria Cioè Quelle carte Di Shizu Hanno rivoluzionato Quel deck Ed è una cosa Proprio Spaintosa Personaggio preferito Del vostro anime Preferito Il mio personaggio Preferito È Esattamente Direi Sovrano Supremo O Yugi Sì Sono proprio questi Quindi Non lo so Decidere I miei Punti I miei Sovrano Sono O Yugi O Sovrano Supremo Ci sarà un motivo Guarda Ti dico Aster e Zane Per GX Però anche Chaz non è male Poi ti dico Yuma Di Zexal Così come Shark E Kite E per HV Ti direi Yuto Qual è Il vostro Anime Preferito Mentre Il mio Anime Preferito Non ce l'ho Veramente Non ce l'ho Queste domande Preferito Secondo me Non hanno molto senso Perché Non è che puoi decidere Da una sola cosa Perché sono tutte belle Quindi Non lo so Non ce l'ho So che ho fatto Intendere Che fosse Yugi O il mio anime Preferito Però io vi direi Anche Death Note Genere di musica Che preferite Il mio genere Preferito di musica È Rock Beh Siamo in due Yugi Che sport Che sport Praticate Voi Io Pratico Il basket Infatti sono alto 1,80 E E niente Sono abbastanza forte E non so Quando verrà pubblicato Questo video Ma il 14 Il 14 novembre Il lunedì Precisamente Avrà una partita E speriamo Di essere convocato Allora Prima di dirlo Vi dico Che sono Nell'idea Che Uno sport Non deve essere Per forza Uno sport fisico Ma secondo me Può anche essere Uno sport mentale E io dico Che Il mio sport È scacchi Avete mai praticato Un torneo Di riguardo A questo sport? Sì Ne ho fatto Proprio uno Quando sono appena Iniziato Esattamente Era Era Se non sbaglio L'anno scorso Che ho iniziato Se non sbaglio A gennaio E da là Ho iniziato Qualche mese Dopo Un mese O due mesi Non lo so E partito subito Il torneo Quindi in carica Contro le altre squadre Io Ovviamente Era appena arrivato Cioè Non sapevo cosa fare Facevo a malapena Due allenamenti A settimana E non è che Ero bravissimo Però Ho fatto Qualcuni canestri Ho avuto un po' Un problema Magari a fare Qualche canestro Ma Insomma Era molto bravo A prendere Contropiede Quindi Sì Sì Il mio primo torneo Di scacchi È stato All'elementari L'ho praticato Fino Tipo Alle medie E quindi Ho fatto Molti tornei Ero anche Uno dei più bravi Nella mia categoria L'ho praticato 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 L'ho praticato